Ciao ragazzi, benvenuti nella decima puntata della serie dedicata a tutti i giochi che nel corso del tempo ho acquistato per Nintendo Switch. Nel non episodio avevamo visto Spyro Reignated Trilogy, Demon X Machina, Tetris 99 con il suo DLC denominato Big Block, The Legend of Zelda Link's Awakening e The Witcher 3 Wild Hunt nell'edizione complete. Inoltre, non è mancata l'occasione per parlare dell'emulatore SNES distribuito senza costi aggiuntivi agli abbonati ai servizi Nintendo Switch Online. Oggi si riparte da fine ottobre 2019 per arrivare al mese di marzo 2020 quando, durante l'esplosione della pandemia di Covid-19 a livello mondiale, è stato pubblicato quello che inaspettatamente è diventato il secondo gioco più venduto su Switch. Esattamente il giorno di Halloween, il 31 ottobre, Nintendo portava sulla sua piccola ibrida il nuovo capitolo della saga di Luigi's Mansion, Luigi's Mansion 3, videogioco d'azione ed avventura sviluppato da Next Level Games e pubblicato da Nintendo in esclusiva per Switch. Il titolo vede i giocatori assumere il ruolo di Luigi, il quale dovrà esplorare un hotel infestato caratterizzato da piani a tema. Il simpatico fifone dovrà farsi coraggio per salvare i suoi amici dai fantasmi che abitano l'hotel, dopo che il gruppo attratto lì in vacanza con la scusa di un viaggio premio, è stato ingannato da Ribaud. Al di là di una serie di elementi che ritornano dai capitoli precedenti, Luigi's Mansion 3 incorpora nuove caratteristiche di gioco, tra cui mosse aggiuntive per catturare i fantasmi, un assistente doppelganger ectoplasmatico noto come Gommi Luigi e funzionalità multiplayer che consentono ai giocatori di impegnarsi in giochi cooperativi o competitivi sia a livello locale che online. Il gioco ha ricevuto recensioni positive dalla critica ed è stato nominato per diversi premi vincendo quello di miglior gioco per famiglie ai The Game Awards 2019. Ad oggi il titolo ha venduto quasi 12 milioni di copie finendo di diritto tra i primi 15 giochi più venduti su Switch. Io ho acquistato Luigi's Mansion 3 al lancio e l'ho completato abbastanza rapidamente visto che mi ha davvero colpito. Ho trovato molto riuscita la figura di Gommi Luigi, davvero ben realizzati, i livelli tematici, e complessivamente ritengo che il gioco sia divertente anche se a tratti un po' ripetitivo nelle meccaniche. Non ho invece acquistato il DLC a pagamento che comprende ulteriori minigiochi multiplayer. Personalmente li considero pressoché inutili. Sì, è vero, la sezione multiplayer serve ad ampliare la durata di quella single player che di base non è particolarmente longeva, dura circa una quindicina di ore, non è particolarmente rigiocabile. Ma a mio avviso i minigiochi a più giocatori possono essere ignorati senza problemi. Comunque, per farsi un'idea, tre di questi minigame competitivi sono presenti anche nel gioco base e sono cacciaspettri, in cui le squadre ottengono punti catturando i fantasmi, cannonate, in cui le squadre ottengono punti caricando i cannoni e sparando contro i bersagli, e fluttuamonete, in cui le squadre usano i gonfiabili per raccogliere le monete che cadono in una piscina. In più c'è la modalità Scare Scraper che si concentra sul lavoro di squadra tra giocatori per ripulire 5 o 10 piani di un grattacielo generato in modo casuale, cercando i fantasmi che vi si nascondono. Ecco, questa modalità in particolare è forse quella più piacevole tra le aggiuntive, ma almeno a me ha comunque annoiato molto presto. È sicuramente nel single player dove Luigi's Mansion 3 brilla, modalità in cui i giocatori esplorano un grande hotel di 17 piani. Ogni piano è caratterizzato da un tema peculiare ed un'atmosfera unica, nonché una varietà di fantasmi tra cui un boss che il giocatore dovrà sconfiggere per proseguire. Luigi's Mansion 3 è anche abbastanza aperto come gameplay, nel senso che consente l'esplorazione libera degli ambienti, con l'unica restrizione che non è possibile esplorare gli altri piani dell'hotel fin tanto che non si è trovato il pulsante dell'ascensore che ne consente l'accesso. La hall principale dell'hotel ed il semi-interrato sono invece gli unici piani ad avere una scala che aggira la necessità dell'ascensore e quindi sono sempre e comunque esplorabili. L'hotel nasconde tesori e vari oggetti da scovare, risolvendo degli enigmi. Luigi può trovare monete, banconote, lingotti d'oro e perle, oltre a sacchi di denaro. Può anche trovare gemme speciali e boi nascosti oltre che cuori per recuperare la salute persa. Per quanto riguarda le meccaniche, dai precedenti capitoli torna la carica stordente che facilita la cattura dei fantasmi ed il dispositivo che può rivelare gli oggetti invisibili o animare i ritratti appesi sui muri, e tale strumento può anche riportare alla normalità gli oggetti posseduti. Tra le novità ci sono invece nuove funzioni per il poltergast, l'attacco ad area che può aiutare a tenere indietro più nemici oltre a far saltare via i mobili per rivelare un tesoro, l'attacco a ventosa che permette al giocatore di sparare uno stura lavandini sugli ostacoli, e l'attacco a tra virgolette schiaffo che permette ai giocatori di far sbattere ripetutamente a terra i fantasmi che si stanno catturando. Chiaramente l'aggiunta più importante è Gommi Luigi che può eseguire mosse simili a quelle della sua controparte reale e può essere controllato sia dal giocatore switchando da Luigi a Gommi Luigi e viceversa, o da un secondo giocatore se si gioca in co-op locale. Gommi Luigi può aiutare nelle battaglie, ma soprattutto viene utilizzato per risolvere alcuni enigmi. Egli infatti riesce a passare attraverso le fessure e può camminare su pavimenti chiodati, anche se è più debole di Luigi e perde istantaneamente la sua forma fisica se entra in contatto con acqua o fuoco. Insomma, Luigi's Mansion 3 è stato davvero una sorpresa ed io l'ho apprezzato moltissimo. Se riuscite a trovarlo al giusto prezzo, che personalmente ritengo essere attorno ai 25, massimo 30€, è un titolo che non deve mancare nella vostra collezione di giochi su Switch. Ci avete mai giocato? Esattamente il giorno successivo, il 1 novembre, Sega pubblicava sulla ibrida di Nintendo Mario & Sonic ai giochi olimpici di Tokyo 2020. Videogioco arcade sportivo sviluppato da AlphaDream e basato sulle allora future olimpiadi estive previste per il 2020. Come sesto capitolo della serie Mario & Sonic, anche la nuova edizione è un crossover tra i franchise di Super Mario di Nintendo e Sonic the Hedgehog di Sega. Il gioco, però, ha ricevuto recensioni contrastanti. Sicuramente ottima la presentazione ed il gameplay, ma storia, funzionalità multiplayer e contenuti single player non sono stati ritenuti all'altezza. Per quanto mi riguarda, devo ammetterlo, me lo sono procurato usato a metà 2021 solo per collezione, in quanto fan delle due saghe, avendolo trovato a due spicci. In alternativa, non l'avrei mai acquistato. Da allora, infatti, a parte fare un giro di prova, non l'ho mai più riaperto perché non di particolare mio interesse. In ogni caso, come precedenti titoli di Mario & Sonic, anche in giochi olimpici di Tokyo 2020, il giocatore, utilizzando uno dei personaggi dalle due suddette saghe, deve careggiare in una moltitudine di eventi basati sugli sport delle Olimpiadi. Il titolo presenta una varietà di eventi, tra quelli che tornano dai capitoli precedenti, come la boxe, il calcio, il nuoto e la ginnastica, e nuovi per la serie, come il karate, lo skateboard, l'arrampicata sportiva ed il surf. Il titolo offre la possibilità di giocare in multiplayer locale a schermo diviso o con più console, oppure online. È inclusa anche una modalità 2D, basata sulle Olimpiadi estive del 1964, caratterizzata da stili ad 8 e 16-bit rispettivamente per Mario e Sonic. Questa modalità 2D ha controlli limitati e la possibilità di attivare una sovrimpressione grafica per emulare la sensazione dei giochi di quell'epoca. Complessivamente ci sono 32 personaggi giocabili, quelli regolari della serie, che sono utilizzabili in tutti gli eventi, più altri 12 ospiti per specifici eventi. Mario & Sonic ai giochi olimpici di Tokyo 2020 è stato l'ultimo gioco a cui Alpha Dream ha lavorato prima di dichiarare bancarotta nel 2019. Al titolo hanno lavorato anche Rajin, Yuks e Success Corp. Tra l'altro Rajin aveva contribuito anche allo sviluppo dei precedenti capitoli della serie. A maggio 2020, Giochi Olimpici di Tokyo è stato accompagnato da una controparte gratuita per Android ed iOS col nome di Sonic e Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che presenta un gameplay simile a quello del gioco principale, ma non contiene personaggi di Mario nella modalità 2D. Nonostante lo spostamento dei Giochi Olimpici di Tokyo dal 2020 al 2021 a causa della pandemia covid-19, il titolo Companion ha comunque mantenuto il nome Olympic Games Tokyo 2020 per motivi di branding. Che altro aggiungere? Se siete amanti della saga e del genere, Mario & Sonic ai giochi olimpici di Tokyo 2020 è sicuramente un prodotto completo, ma credo che ne possa essere valutato l'acquisto solo se trovato al giusto prezzo, altresì detto a meno di 20€. In alternativa, non ve lo consiglio particolarmente. A voi piace la saga dei giochi olimpici di Sega? Un mese dopo, esattamente il 3 gennaio, Nintendo pubblicava in esclusiva per Switch il quinto capitolo della serie Rompicapo Brain Age col titolo Dr. Kawashima's Brain Training. Si tratta di un videogioco puzzle di edutainment sviluppato da Indies Zero basato sulle ricerche del neuroscienziato Ryuta Kawashima, il cui avatar guida il giocatore durante il gameplay. Brain Training si basa sulle puntate precedenti della saga, aggiungendo ulteriori enigmi e minigiochi ancora una volta pensati per stimolare la memoria e la capacità di concentrazione del giocatore. Il titolo è sostanzialmente una raccolta di tutti i precedenti rompicapo della serie, con in più alcuni nuovi puzzle che sfruttano le funzionalità esclusive di Switch come il giroscopio e di sensori IR. Poco più di un anno dopo la sua uscita, io ho recuperato l'edizione fisica di Brain Training del Dr. Kawashima, la quale include uno stilo che può essere usato come alternativa alle dita in cui ero un picapo touchscreen che richiedono più precisione. Complessivamente il gioco ha ricevuto recensioni contrastanti. Da una parte ci sono stati gli elogi per l'uso delle tecnologie di Switch, i tanti puzzle ed il valore di rigiocabilità. Dall'altra si è ritenuto che mancasse di innovazione e varietà. Comunque sia, ad oggi il gioco ha venduto oltre un milione di copie ed io, non avendo mai provato nessuno dei capitoli precedenti, l'ho trovato interessante. Anche se, lo ammetto, non l'ho ancora testato a fondo. Eh sì, lo so, la cosa è un po' controversa, visto che si tratta di un gioco che andrebbe avviato con regolarità. Infatti, in Brain Training sono presenti due modalità, gioco rapido, per partita al volo, ed allenamento quotidiano, per tenere la mente costantemente allenata. Per giocare è necessario usare la console principalmente in modalità portatile con lo schermo rotato di 90 gradi, cioè in verticale, mentre la modalità TV viene utilizzata a malapena. Per interagire con i giochi, a seconda della loro tipologia, il giocatore deve disegnare sullo schermo o toccarlo, oppure sfruttare il sensore IR del gioco in destro o gli altri pulsanti. I rompicapo sono in tutto 24 e sono tutti unici. Nella modalità rapida, i minigiochi possono essere giocati al ritmo del giocatore ed ogni giorno ne viene sbloccato uno. Essa permette inoltre di giocare in multiplayer, una novità per la serie. Nella modalità di allenamento giornaliero, invece, il giocatore ha pieno accesso ad una selezione di rompicapo che si sbloccano man mano con il passare dei giorni. Il giocatore può anche eseguire una verifica dell'età cerebrale, portando a termine 3 enigmi. La prestazione decrederà l'età del suo cervello in base alla velocità di completamento. Una volta al giorno il giocatore riceve anche un timbro che gli permette di sbloccare altri minigiochi. Infine, non manca una modalità campionato in cui i giocatori si collegano online per competere con avversari da tutto il mondo. Questa funzione necessita dell'abbonamento ai servizi Nintendo Switch Online. La modalità campionato si svolge il sabato ed i giocatori hanno a disposizione fino a due tentativi per ogni puzzle al fine di risolverlo il più velocemente possibile. Il tentativo più veloce viene presentato al campionato. Tale modalità competitiva permette anche di inviare messaggi agli altri giocatori e di confrontare i risultati una volta al giorno. A luglio 2020 questa modalità è stata utilizzata per un evento speciale in cui i giocatori hanno potuto competere con il dottor Ryuta Kawashima stesso. A voi piace il genere edutainment? Saltando al mese di marzo, esattamente al giorno 20, è raggiunto il momento per Nintendo di portare in esclusiva su Switch un altro gioco, un titolo che di lì a poco avrebbe stravolto completamente il tempo libero, e non solo quello, di tutte le persone costrette a restare chiuse in casa per i rimedi imposti dai governi al fine di contrastare l'esplosione della pandemia di Covid-19. Sto ovviamente parlando di Animal Crossing New Horizons, gioco di simulazione sociale e quinto capitolo principale della serie Animal Crossing in cui il giocatore controlla un personaggio che si trasferisce su un'isola deserta dove portare a termine vari compiti assegnati e sviluppare l'isola a suo piacimento, trasformandola in una comunità di animali antropomorfi. Lo sviluppo di New Horizons è iniziato nel 2012 e il direttore del gioco, Aya Kyogoku, ha voluto mantenere in esso i vecchi contenuti dei capitoli precedenti per far felici i fan, oltre che cercare di tenere la complessità generale più bassa possibile al fine di attirarne di nuovi. Il gameplay è perciò semplicistico e facile da assimilare e lo stile artistico è appositamente blando così da consentire al giocatore ampia immaginazione. New Horizons ha ricevuto il plauso della critica che ne ha lodato il gameplay e le opzioni di personalizzazione, definendolo il miglior gioco della serie Animal Crossing. Il titolo è stato quindi nominato per oltre una dozzina di premi ed è stato candidato come gioco dell'anno. Forse inaspettatamente è stato anche un mega successo commerciale, vendendo oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo e posizionandosi al secondo posto tra i titoli più venduti su Switch. Al di fuori del mondo Nintendo è stato in assoluto anche il gioco con il maggior numero di copie digitali distribuite in un solo mese e quello più acquistato di tutti i tempi in Giappone, nonché il sedicesimo videogioco più venduto della storia. Durante la pandemia il titolo è stato utilizzato come sostituto di interazioni sociali per matrimoni e cerimonie di laurea, oltre che per campagne politiche e proteste virtuali. Ha anche ispirato i fan nella creazione di siti web di trading, talk show o fumetti ed altri prodotti. New Horizons è stato aggiornato con nuovi contenuti fino a novembre 2021, quando è stato rilasciato un DLC a pagamento denominato Happy Home Paradise, il quale è stato anche inserito nell'offerta Nintendo Switch Online più pacchetto aggiuntivo, di cui parleremo in un futuro episodio di questa serie di miei video sui giochi Switch. Per quanto mi riguarda, ho recuperato New Horizons soltanto a febbraio 2022, quando sono riuscito a trovarne una copia nuova ad un prezzo per me accettabile, cioè sotto i 40€. Il titolo ha infatti mantenuto costante nel tempo il suo prezzo di listino vista l'alta domanda che è riuscito a generare. In ogni caso, come per altri giochi che ho aggiunto alla mia collezione acquistandoli in date ampiamente successive a quelle di lancio, anche questa volta ho recuperato New Horizons principalmente per capirne le meccaniche per, appunto, ampliare la mia collezione di giochi esclusivi per la console di Nintendo. Da allora non l'ho più ripreso in mano, perché non l'ho trovato particolarmente interessante, probabilmente perché era ormai superata la fase di boom. Come nei precedenti giochi di Animal Crossing, New Horizons è un gioco di simulazione di vita giocato in tempo reale. Il tempo si adatta alle stagioni dell'emisfero settentrionale o meridionale a seconda della posizione reale del giocatore, una novità assoluta per la serie. Il gioco segue quindi un abitante personalizzabile a cui Tom Nook fornisce beni di prima necessità, come ad esempio una tenda. Da quel momento in poi il gioco procede in modo non lineare, consentendo ai giocatori di eseguire svariate scelte. Egli ha quindi libero accesso a risorse naturali, come frutta e legno, che possono essere raccolte e trasformate in una varietà di oggetti immobili. Può catturare insetti e pesci, piantare e far crescere alberi e fiori, estrarre risorse naturali, come le rocce, o nuotare nell'oceano. L'isola offre uno spazio aperto per posizionare oggetti e decorazioni, contenuti che spesso dipendono dalla stagione in corso e che appaiono solo per un periodo limitato dell'anno, cosa che porta il giocatore a tornare e tornare nuovamente sul gioco. Svolgendo semplici compiti si ricevono in cambio le valute in-game, che possono essere utilizzate per acquistare beni e servizi. Altra funzione peculiare del gioco è la Dodo Airlines, tramite cui il giocatore può visitare altre isole per raccogliere risorse o incontrare altri abitanti del villaggio. Il giocatore può anche invitare sulla propria isola gli altri giocatori che incontra. All'inizio della sua avventura il giocatore parte assieme ad altri due abitanti casuali che vivranno accanto a lui e che potranno interagire con lui, instaurando relazioni. Quando il giocatore avrà fatto sufficienti progressi nel gioco, Tom Nook darà maggiore libertà di espansione. A quel punto altri negozianti visiteranno e si stabiliranno sull'isola. Alla fine l'area principale si espanderà fino a diventare un municipio gestito da Tom Nook con l'aiuto di Isabelle. Altri edifici ed abitanti popoleranno la comunità, mentre le vecchie tende ed i negozi si trasformeranno in strutture permanenti che potranno comunque essere spostate per essere meglio posizionate. A quel punto all'isola verrà assegnata una valutazione in stelle, e man mano che l'isola progredisce la sua valutazione aumenterà e quando si raggiungeranno 3 stelle su 5, KK Slider, un famoso musicista, visiterà l'isola e si esibirà in un concerto segnando la tra virgolette fine del gioco, mentre scorrono i titoli di coda. Tuttavia il giocatore potrà continuare a giocare con altre opzioni per la personalizzazione al fine di contribuire a far crescere ulteriormente la comunità, con la possibilità di costruire e distruggere scogliere, specchi d'acqua, sentieri e quant'altro. Il gioco supporta un'unica isola per Switch, ma è presente una modalità cooperativa locale ed online, con un massimo di 4 giocatori in locale ed 8 online in grado di occupare l'isola in qualsiasi momento. Il gioco supporta gli amiibo e le figure della serie Animal Crossing che possono essere utilizzate per vari scopi, come invitare temporaneamente un abitante che può essere convinto ad unirsi. Dall'uscita, ogni mese fino al sopracitato novembre 2021, sono stati aggiunti contenuti gratuiti tramite aggiornamenti software, aggiornamenti che alla fine sono cessati con il rilascio della versione 2.0 ed il DLC a pagamento Happy Home Paradise. I frequenti update avevano lo scopo di facilitare l'allineamento del gioco con i cambiamenti stagionali. Nuovi oggetti, eventi e caratteristiche erano quindi inseriti con costanza. La maggior parte di tali aggiunte erano basate vagamente su festività nazionali come la Pasqua, la Giornata della Terra, il primo maggio, Halloween, il giorno del riazziamento e Natale, ma anche il semplice cambio delle stagioni ha di volta in volta portato nuovi oggetti, personaggi popolari del franchise e via discorrendo. Ad ogni aggiornamento l'isola cambiava aspetto e veniva decorata per l'occasione. Oltre ai cambiamenti stagionali, Nintendo ha rilasciato anche oggetti a tema da altri suoi franchise popolari, ad esempio gli abiti e le decorazioni per celebrare, il trentacinquesimo compleanno di Mario. Come anticipato, la versione 2.0 ha rappresentato l'ultimo importante update di New Horizons. Sono arrivati i personaggi Kappen & Brewster, nuove attività e luoghi, oltre che svariati miglioramenti al gameplay. L'update ha portato anche oggetti acquistabili, tra mobili e musica, nuovi abitanti e la possibilità di cucinare il cibo attraverso le coltivazioni. Happy Home Paradise ha invece espanso il gameplay, permettendo ai giocatori di visitare un'isola lontana e progettare su di essa case vacanze per gli abitanti, aggiungendo quindi nuove opzioni di personalizzazione. Voi avete giocato questo capitolo della serie e o il DLC a pagamento? Ci state ancora giocando? Lo stesso giorno di marzo, Bethesda Softworks pubblicava anche su Switch Doom 64, lo sparatutto in prima persona, inizialmente sviluppato da Midway Games nel 1997 e sbarcato per la prima volta in esclusiva su Nintendo 64 come secondo spin-off della serie Doom e terzo gioco in assoluto della saga. Chiaramente la versione giunta sulle piattaforme moderne è stata rimasterizzata da Night Dive Studios, studio che ha lavorato anche a diversi altri porting per la console di Nintendo e non solo. Nonostante fosse stato realizzato da un team esterno, Doom 64 fu comunque sviluppato sotto la supervisione di ID Software. Il gioco aveva un titolo provvisorio, Doom The Absolution, titolo che fu alla fine modificato in Doom 64, mentre il precedente fu riutilizzato per il nome dell'ultimo livello. Il gioco utilizzava una versione personalizzata del motore grafico di Doom, la quale consentiva nuovi tipi di geometria dei livelli ed una illuminazione colorata dinamica. Rispetto ai precedenti capitoli, di cui vi ho parlato in un'altra puntata di questa serie, Doom 64 presentava anche una nuova grafica per armi e mostri. Tale edizione ricevette recensioni positive che ne lodavano design dei livelli, colonna sonora e atmosfera generale, anche se era criticata la mancanza di nuovi elementi rispetto ai precedenti giochi della serie. Nonostante ciò, Doom 64 venne considerato fin da subito come il più bel Doom fino ad allora realizzato, superando anche la versione per PC del gioco originale, e da allora anche questo capitolo è riuscito a guadagnarsi il suo successo con numerosi port e mod per PC realizzati dai fan, fino alla remaster ufficiale del 2020 regalata a chi preordinava Doom Eternal. Come per tutti gli altri giochi in formato digitale che ho acquistato su Switch, io l'ho recuperato circa un anno dopo l'uscita quando, grazie a degli sconti su eShop, e ai vari punti oro accumulati nel tempo sono riuscito a prenderlo gratuitamente. Il gameplay di Doom 64 è simile a quello dei precedenti giochi della serie. Il giocatore deve avanzare attraverso 28 livelli combattendo contro i demoni, raccogliendo armi e chiavi ed attivando interruttori per raggiungere l'uscita di ogni mappa, ma soprattutto sopravvivendo ad imboscate e trappole mortali. Tutte le armi di Doom 2 sono presenti in Doom 64, anche se, come anticipato, sono state rivestite con nuove sprite ed associate a diversi effetti sonori. La motosega ha due lame anziché una, i pugni hanno guanti macchiati di sangue anziché nocche d'ottone, il fucile a plasma ha un nucleo elettrico che emette una scintilla, il lanciarazzi ha un piccolo contraccolpo, l'impugnatura di innesco del fucile a pompa si trova in un punto differente rispetto all'arma originale ed il fucile a doppia canna si ricarica più velocemente ma provoca contraccolpi. In più è stata aggiunta una nuova arma, chiamata Handmaker che utilizza le stesse munizioni a cella della pistola a plasma e del BFG-9000. Essa era prevista per il Doom originale del 1993, ma non è mai apparsa fino a Doom 64 e poi è stata replicata in Doom Eternal, da cui anche la congiunzione dei due titoli. Grazie al potere di tre antichi artefatti che il giocatore trova nel corso della storia, tale arma diventa sempre più potente. Il primo artefatto ne aumenta la velocità, il secondo aggiunge un secondo laser ed il terzo permette all'arma di sparare tre laser simultanei che possono mirare automaticamente e in modo separato l'uno dall'altro, consentendo quindi di attaccare tre nemici differenti in contemporanea, con enorme quantità di danni rapidi. La storia di Doom 64 continua dopo gli accadimenti dei primi due episodi, cioè dopo che il marine Doomguy è riuscito a contrastare l'avanzata dell'Inferno sulla Terra, e a quanto descritto poi nella storia di Final Doom, cioè dopo che una politica planetaria è stata istituita al fine di mettere in quarantena le installazioni di ricerca dell'UAC. Per anni quindi le installazioni sono rimaste immobili ed abbandonate, fino a quando un satellite da tempo dimenticato che monitora una di quelle installazioni, a malapena funzionante a causa degli anni di esposizione ad alti livelli di radiazioni, inviò un messaggio sulla Terra. Il messaggio indica che una singola entità dotata di vasti poteri che le hanno concesso di rimanere indenne agli estremi livelli di radiazioni è sfuggita a rilevamento. Questa entità sta ora risuscitando i demoni ed è ovviamente una minaccia che deve essere fermata. Essendo l'unico sopravvissuto dagli accadimenti raccontati nei precedenti episodi di Doom, il nostro Marine verrà inviato da solo a sterminarla. Nel gioco remaster del 2020 la storia è stata ampliata rispetto a quella originale. Si scopre infatti l'esistenza di un ulteriore megaboss da sconfiggere e tale modifica è stata apportata, così da far da collante per la trama tra i giochi originali ed i reboot Doom del 2016 e Doom Eternal. Personalmente non avevo mai giocato Doom 64, e da amante della serie non potevo non approfittare per completarla su Switch. Riusciremo a vedere sulla console di Nintendo in edizione fisica anche Doom Eternal? E no, non parlo di quello pubblicato da Unlimited Run negli USA. Vorrei avere un'edizione uguale a quella realizzata per Doom 2016. Voi che ne pensate? Bene, direi che è tutto per la decima puntata di questa mia serie dedicata alla piccola ibrida di Nintendo. Nella prossima vedremo altri cinque titoli rilasciati tra maggio e luglio del 2020. Vi aspetto nei commenti anche per sapere che cosa ne pensate di questa mia serie su Switch? Io intanto mi fermo qui, vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata. A presto!